Musica Telespettatrice e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, buona settimana, benvenuti a Casa Rossini. La nostra trasmissione in diretta ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni venerdì dagli studi di Rossini TV in onda naturalmente sul canale 633 e anche sui canali digitali sulla pagina Facebook e sul sito www.rossinitv.it. I contatti per collegarvi con noi sono come ogni giorno 351 708 9977, il numero di WhatsApp attraverso il quale potete mandarci dei messaggi, potete mandarci delle domande agli ospiti, potete mandarci anche delle immagini, delle fotografie, dei video. Tra l'altro stiamo progettando una specie di concorso video di cui vi parleremo nelle prossime settimane. Lo stesso discorso potete farlo con la mail casarossini, chiocciolarossinitv.it per tutti quelli che sono i contenuti che preferite inviarci. Ogni giorno noi proponiamo un sondaggio, prima di proporre quello di oggi vi diamo i risultati di quello di venerdì scorso. Ricorderete, naturalmente questi sondaggi sono alla soglia del serio e del faceto. Abbiamo proposto acqua naturale o frizzante, dopo un'impennata iniziale dell'acqua frizzante, poi alla fine il risultato conclusivo si è assestato 68% gli amanti dell'acqua naturale e 32% invece quelli dell'acqua gassata o frizzante. Il sondaggio invece che proponiamo oggi è tecnologico e praticamente la domanda è iPhone o Android? Sarebbe più corretto parlare di sistema operativo per cui iOS oppure Android, insomma vedetela come vi pare. Questi sono i simbolini che identificano appunto l'alternativa. Fateci sapere che cosa preferite anche, non necessariamente cosa avete, anche cosa preferite. Magari preferireste uno dei due ma invece avete l'altro per motivi magari pratici e tecnici. Oggi è l'8 marzo per cui naturalmente auguri a tutte le donne ma di questo parleremo fra un attimo. È il 67esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 298 giorni alla fine dell'anno. Secondo il nostro librone Personology oggi è il giorno dell'anticonformismo. Naturalmente lo sanno tutti, oggi è la giornata internazionale dei diritti della donna per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo. Questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti d'America a partire dal 1909, in alcuni paesi europei dal 1911, in Italia dal 1922. Viene chiamata anche festa della donna, anche se sarebbe più corretto appunto la giornata internazionale della donna perché la motivazione non è la festa ma la riflessione. Tra l'altro se avete voglia di andare a fare un approfondimento di ricerca scoprirete che c'è anche molta imprecisione e confusione sulle origini per cui è stata scelta questa data. Tradizionalmente si parla di un incendio, si parla di alcune cose ma in realtà pare che l'origine sia addirittura in una manifestazione di donne russe che ha poi dato il via a tutta la rivoluzione russa. Andate a vedere perché è anche una cosa curiosa scoprire come certe specie di leggende poi si sviluppano, diventano dati acquisiti sul rimbalzo dei social e invece andando a cercare le origini non sono poi proprio così. La chiesa cattolica celebra San Giovanni di Dio, un religioso spagnolo di origine portoghese, fondatore dell'ordine ospedaliero, detto dei fate bene fratelli. Nel 1690 è stato proclamato santo da Papa Alessandro VIII. Andiamo all'evento storico che abbiamo scelto per oggi, per l'8 marzo. Nel 1935, Hachiko, il cane di Razzakita famoso in Giappone per la sua fedeltà e lealtà, è morto all'età di 12 anni. Dopo aver atteso inintorattamente il ritorno del padrone per ben 10 anni. Ricorderete tutti sicuramente questa storia, questa storia è una storia vera, naturalmente si è svolta appunto in Giappone. Il protagonista era appunto questo cane di Razzakita, ma il suo proprietario era il professor Ueno, un agronomo giapponese che è morto improvvisamente. Appunto il cane ha continuato a recarsi per 10 anni. E' famosa in tutto il mondo e non solo in Giappone, questa vicenda perché è stata ripresa da un film remake di un primo film giapponese del 1987, interpretato da Richard Gere, dove il professore diventa un professore americano, Parker Wilson, e praticamente però il filo narrativo è lo stesso. La storia di Hachiko ha avuto grande eco anche nella letteratura, comparendo soprattutto in racconti per bambini. Pensiero del giorno, l'elettricità c'è, bisogna solamente inserire la spina e a questo punto iniziamo, inseriamo la spina e iniziamo la nostra puntata con il primo degli ospiti della giornata. Un benvenuto all'assessore Mila Della Dora. Buongiorno e benvenuta Mila. Mi raccomando il microfono. Eccolo là. Grazie Paolo, buongiorno a voi e grazie per l'invito a Casa Rossini. Bene, allora siamo molto contenti di averti qua. Tra l'altro, sempre nella mia ricerca, sono andata a scoprire questo nome così originale. Chissà se sai qual è l'origine di questo nome, tu che lo porti così bene da sempre praticamente. Io diciamo che so perché i miei me l'hanno messo, poi le origini, so che è un nome di origine dei paesi dell'Est. Esatto, è un nome di origine slava, è un diminutivo che è diventato anche nome indipendente, è un diminutivo di Milena, Ludmila. Comunque significa grazia, delicatezza, bontà d'animo, benevolenza, amorevolezza. Insomma, non è male. Non è male, confermo. I tuoi genitori hanno scelto, è segreto il motivo? No, no, non è segreto. Mia mamma quando era incinta ha conosciuto una bimba piccolina, bionda, con gli occhi azzurri, si chiamava Mila, si è innamorata di questa bambina. Ovviamente, insomma, non sono io perché i colori non sono i miei, sono più i colori delle mie figlie, diciamo chiari. Bene, e allora dopo questa cosa che io faccio, introduttiva, un po' per sdramatizzare, un po' per far conoscere anche meglio, perché soprattutto i politici vengono di solito intervistati sull'argomento, sul tema, per cui i telespettatori ne hanno un'immagine come di o risolutori di problemi o nell'occhio del ciclone. Allora, mi piace qui nel salotto anche un po' come dire, umanizzare questa situazione e queste figure, però i temi sono tanti, anche perché l'assessore della Dora è assessore al personale, alla salute, alimentazione, allo sport, politiche per la casa, immigrazione, volontariato, quartieri, politiche giovanili. Il tutto riassunto, come tutti gli assessorati della Giunta Ricci, con coesione e benessere, però in realtà spicca in questo momento storico questa delega alla salute, insomma, che mi sa che è un po' impegnativa, no? Sì, diciamo che in questo anno purtroppo non solo la nostra città, ma la nazione, diciamo, il mondo purtroppo è stato colpito dalla pandemia, è una cosa insomma che noi speravamo che si potesse risolvere un po' prima, invece purtroppo siamo ancora qua, probabilmente ricaduti, spero no, ma insomma nella stessa situazione di un anno fa. Sì, perché è un anno in questi giorni, no? Proprio esattamente, consideravamo prima e siamo di nuovo in attesa di capire cosa stia per succedere, i giornali ci mettono un po' paura su questo rischio zona rossa che ritorna anche per la nostra provincia. Sì, esattamente, in queste ore la Regione Marche potrebbe decidere di mettere in via preventiva, diciamo cautelativa, in zona rossa la provincia di Pesor Urbino. Ad oggi non sembrerebbe che la nostra provincia abbia dei numeri sopra i 250 casi ogni 100.000 abitanti, che è praticamente la condizione per metterti in automatico in zona rossa. Dovremmo essere leggermente sotto, ripeto, in queste ore avremo i dati, però la Regione Marche, a quel che ci ha detto un paio di giorni fa alla conferenza di area vasta, potrebbe in via cautelativa e preventiva per evitare ulteriori contagi, mettere la provincia di Pesor Urbino in zona rossa. Un po' in attesa, anche perché il risultato dello screening era stato fatto in via del tutto autonoma, visto che non c'era la possibilità di seguire il modello Pesaro, come aveva proposto il nostro sindaco, però lo screening ha dato un risultato molto positivo nelle scuole, no? Esatto, di fatto è una cosa che stiamo chiedendo e stavamo chiedendo alla Regione da diversi mesi, perché riteniamo che la scuola, i ragazzi, i bambini meritano uno sguardo diverso. Sono il nostro futuro, le nostre speranze e ritengo che non debbano essere i primi, le scuole a chiudere, le prime, i nidi, le infanze e le ultime a riaprire. Direi che forse poteva essere fatto qualcosa di più, cioè quello che è lo screening, quello che può essere una fotografia istantanea di quel momento della situazione scolastica. Ritengo magari che se da inizio anno scolastico ci fosse stata la possibilità di fare una volta al mese questo screening, penso che magari gli stessi ragazzi, anche in un contesto fuori della scuola, probabilmente sarebbero stati anche, come posso dire, più attenti. Ma anche perché di fatto io ho visto anche tanti ragazzi responsabili. Ricordo che lo screening delle scuole ci è stato richiesto da loro, quindi i rappresentanti degli studenti ci hanno chiesto questa modalità per il rientro a scuola. Una cosa che mi viene in mente adesso, lo screening periodico potrebbe funzionare anche, come posso dire, da autoresponsabilizzante, cioè io so che devo essere controllato periodicamente, sto un po' più attento per non farmi beccare. Potrebbe funzionare anche in quel modo? Secondo me, infatti quello che volevo dire era appunto questo, quindi diciamo che dovrebbe scattare magari un po' di più in diversi, perché vediamo tante persone responsabili, quel senso di responsabilità in più, senso civico, perché al di là magari di noi stessi, io parlo magari di tanti giovani che magari sono forti, però in casa possono avere vicino genitori, anziani, persone che potenzialmente più debole, più fragili e quindi un contagio potrebbe sicuramente avere degli effetti diversi. Come sta andando il piano vaccinazione al momento? Allora, il piano vaccinazione al momento ci dicono, insomma, sono partiti il 20 di febbraio, noi ci auguriamo che possano aumentare i punti vaccinali, è quello che ha richiesto anche il sindaco, quindi di avere almeno quattro punti vaccinali nel distretto di Pesaro, il distretto insomma che è abbastanza ampio, perché comprende diversi comuni, e quindi anche quello che dice anche il DL Sostegni di Draghi, che chiede almeno, cioè dice che ci può essere almeno un punto vaccinale ogni 40.000 abitanti, quindi noi chiediamo insomma che possano essere almeno quattro per poter potenziare, velocizzare quella che è l'operazione di vaccinazione, in modo tale che ci possa portare il prima possibile fuori da questo benedetto Covid. Io ci sono stato con mio padre e devo dire che, a parte il fatto che ovviamente c'è tanta gente, ma tanta gente va vaccinata, comunque il meccanismo è rodato, si capisce che il meccanismo è ragionato e funziona, vi aiuterà adesso questo nuovo protocollo che è stato fatto con i medici, gli specializzanti, che dovranno entrare diciamo anche loro nel corpo dei vaccinatori? Allora di fatto loro più che altro gli viene delegata la parte diciamo del domicilio, quindi le tante persone non autosufficienti che non sarebbero in grado di recarsi ai punti vaccinali. Noi stiamo lavorando in collaborazione con l'Asur per potenziare il punto della Celletta, quindi del centro sociale Pino Monaldi, con la palestra Celletta che è in via Pasolini, praticamente a qualche centinaia di metro dall'attuale diciamo sede vaccinale. E questo potrebbe velocizzare magari anche le operazioni, quindi potrebbe essere la possibilità di differenziare per la parte magari del personale docente, scolastico, insegnante e la parte diciamo degli anziani over 80. L'idea è comunque, ripeto, di avere più punti vaccinali, essere più capillari nei territori e avere diciamo presidi anche più grandi, perché comunque la campagna vaccinale sarà ancora molto lunga. La settimana scorsa il sindaco di Gradara ha detto che è stato fatto questo accordo comunque tra i sindaci del Pian del Bruscolo e lui ha dato la disponibilità anche a tempo indeterminato, anche per un anno se serve all'uso del palazzetto di Gradara. Esatto, dobbiamo capire se ci aumentano i punti vaccinali perché, ripeto, noi siamo dell'idea insomma che vadano aumentati per essere anche disponibilità c'è. La disponibilità c'è, però adesso deve succedere qualcosa insomma perché diventi operativa. Allora, oggi è l'8 marzo, parliamo delle donne, parliamo delle donne nello sport. Tu mi hai mandato questa delibera, tra l'altro la delibera e l'invito alle associazioni sportive ad attivarsi, relativa a questo accordo che è stato fatto, a questa adesione alla Carta Europea dei diritti delle donne nello sport. Naturalmente chi è magari meno attento, come potrei essere stato io fino a prima di leggere queste cose, può anche pensare, beh, dov'è il problema? Le donne non hanno pari diritti nell'ambito dello sport, non ci sono sport per donne, sport per uomini. Tu stessa, se non sbaglio, sei stata arbitro di calcio, non so se sei ancora. No, adesso no. Sei stata arbitro di calcio, cioè non è tutto aperto, non è, domande provocatorie, non è tutto libero, non è già tutto fatto, c'è bisogno di una carta dei diritti? Allora, questa qui, diciamo, faccio un po' come è nata questa idea. Allora, c'è stata una mozione in Consiglio Comunale, presentata dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità, Anna Maria Mottioli, è stata votata all'unanimità, sono tanti i firmatari di questa mozione, che chiedeva un impegno da parte del Sindaco e della Giunta di aderire alla Carta Europea dei diritti delle donne nello sport. La mozione, come ho detto, è stata approvata, di conseguenza la Giunta l'ha recepita, e quindi abbiamo dato la nostra disponibilità, quindi anche il Comune di Pesaro fa parte, diciamo, dei comuni che vogliono aderire e essere promotori della Carta Europea dei diritti delle donne nello sport. Dici, serve, non serve, non lo so, come ti potrei dire anche le quote femminili in diversi contesti, in ambito politico. Abbiamo visto che anche nello sport, purtroppo, le donne nei ruoli, diciamo, apicali di dirigenti nello sport, ce ne sono veramente poche, non perché le donne non facciano sport, perché, come tu hai sottolineato, io per oltre 30 anni ho fatto sport, quindi chi mi conosce lo sa, però purtroppo magari a volte in certi contesti serve ricordarlo, non in tutti, però magari in qualcuno è opportuno. Quindi, una volta che abbiamo dato la nostra disponibilità, abbiamo chiesto anche alle società sportive, chi volesse contribuire con degli elementi, quindi che azioni possiamo mettere in campo insieme per dare valore e pari dignità, pari ruolo, sia, ripeto, in un ambito di dirigenza, in un ambito proprio di sport praticato, e quindi l'idea è proprio di essere una di quelle città che crede nella parità dei diritti fra uomini e donne. Per fare una sintesi, diciamo, tra averla e non averla, è meglio averla, questa Carta dei diritti, no? Sicuramente, sì. Alla fine questo è il succo, cioè tra averla e non averla, è una carta che possa... Ci servo un 8 marzo e quindi le domande sono le stesse. Certo, certo, certo. Stanno già arrivando adesioni da parte delle associazioni sportive, perché adesso chiaramente la palla è anche in mano loro, cioè il protocollo è realizzato, l'adesione è stata comunque deliberata e adesso si deve andare sul pratico e deve succedere qualcosa. Siamo delle proposte, ma delle proposte anche in ambito scolastico, perché questo ci chiede anche di promuovere verso, diciamo, gli insegnanti, i ragazzi, le scuole e quindi la parità appunto nello sport fra uomini e donne. Quindi stiamo chiedendo anche spunti sia al mondo della scuola che al mondo delle società sportive, quindi perché insieme ritengo che non debba essere un'imposizione che arriva dall'alto, ma deve essere, secondo me, un lavoro di squadra dove ci diamo degli indirizzi per poter fare un lavoro in cui anche la donna possa avere pari dignità nello sport. Bene, allora a tutte le società e associazioni sportive che hanno ricevuto la lettera protocollata del 3 marzo, protocollata 25 180, ricordiamo appunto di prenderne atto e di cominciare a preparare delle proposte da poi mandare all'assessorato di Mila della Dora. Allora, parlando sempre di sport, questo 2021 nel quale ormai, io lo dico a tutti e ne parlo con tutti gli ospiti, bisogna abbracciare possibilmente la filosofia del come se, cioè la filosofia del come se tutto finalmente si potesse andare a soluzione. Con questa filosofia per il 2021 ci sono dei bei progetti in atto. Esatto, insomma, il primo è proprio veramente dietro l'angolo, perché il 28 di marzo ospiteremo i campionati italiani di Duatlon. Insomma, mi auguro che, insomma, si possano veramente fare, perché è la terza volta che li rinviamo. Erano previsti la prima volta il 29 di marzo del 2020, poi il 15 novembre 2020, ed ora, insomma, la terza data è quella del 28 marzo 2021. È un campionato, insomma, che, insomma, ci crediamo, ho detto, sono tre volte che lo rinviamo, però, insomma, purtroppo non dipende da noi la pandemia. Ritengo, insomma, che prima di tutto si debba uscire veramente da questa situazione che sta pesando sotto tanti punti di vista. Il primis è quello economico e sociale. Io, che dico sempre che facendo questo programma è come se facessi ogni volta un corso, ho scoperto cos'è il Duatlon, non lo sapevo, che è la versione senza nuoto del triathlon, giusto? Esatto. Per cui è inverno, per cui, insomma, ancora presto per andare anche in acqua, per cui corso e bici, campionato programmato per il 29, 28 marzo, con tante società che vengono, che partecipano a tanti atleti. Esatto, potenzialmente gli atleti sono qualche centinaio e adesso, ho detto, non dipende più da noi, noi siamo pronti, quindi vediamo, insomma, quello che sarà. Poi un altro evento grande, oltre a tanti tornei che avevamo in competizione, abbiamo, poi, ho detto, sono quelle cose che dovremo pian piano rivedere, abbiamo i campionati europei di ginnastica aerobica e acrobatica, organizzanti con Esa Tour, quindi il nostro partner che ci ha visto protagonisti comuni Esa Tour anche con la Golden Age. L'evento in piazza, per chi se lo ricorda, con 2000 passa atleti. In piazza non solo, perché erano sparsi nei giardini. Sì, erano sparsi ovunque, è stata una cosa veramente interessante. Anche questo è un campionato della UEG, che è l'Unione Europea di Ginnastica, quindi grazie al sostegno anche della Federazione Ginnastica d'Italia siamo riusciti ad aggiudicarci, insomma, per settembre, ottobre 2021, anche questi altri campionati, che, ripeto, insomma, vedranno anche qui migliaia di atleti nella nostra città. Questo, se dovessimo andare a vedere come calendario, settembre, ottobre, e dovessimo rifarci al 2020, il periodo non è male, insomma, almeno, era un periodo di relativa tregua. Speriamo che sia una tregua, anche quest'anno, ma che sia una tregua destinata anche a durare, però diciamo che su quello un po' più di respiro c'è, insomma. Sì, bisogna ripartire il comparto turistico, è uno, insomma, di quei comparti che purtroppo sono stati seriamente colpiti, diciamo, tutto l'incoming turistico, tutto quello che gira, e quindi proprio c'è voglia di ripartire, secondo me potrebbe essere a fine stagione, con un anno così, anche questo, una boccata, insomma, d'ossigeno, è ovvio che non risolverà i problemi, però, insomma, l'idea è quella di destagionalizzare, portare grandi competizioni nella nostra città, insomma, è la cosa che ci ha sempre visto in questi anni. Intanto, nel frattempo, per fortuna, pur senza pubblico, continuano gli sport, quelli, i campionati di sport al chiuso, la WL, comunque, anche all'aperto, come la Vispesero ieri, su Rossini TV, è andata in onda una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché io da giovane, tu facevi l'arbitro, ma io da giovane giocavo a Occa e Rotelle, non si direbbe, e ieri ho visto che l'amatori Pesero di Occa e Rotelle si è conquistata fuori casa la semifinale di Coppa Italia, di Serie B, se non sbaglio, per cui, insomma, ci sono delle belle realtà che succedono nella nostra città, sempre in attesa che tutto questo poi possa riportare del pubblico a seguire e a vedere quello che succede. Bene, benissimo, allora di sport abbiamo parlato abbastanza, di donne un pochino, adesso parliamo di qualcos'altro che ha a che fare con le tue deleghe, per esempio il coinvolgimento dei quartieri, che in questo momento, anche se non hanno il loro ruolo tipico, quello di fare aggregazione, perché chiaramente le aggregazioni non si possono fare, di gestire i circoli di quartiere, però comunque sono un partner importante per l'amministrazione, proprio per la ramificazione che hanno, sul territorio. Sì, i quartieri sono l'occhio dell'amministrazione comunale sul territorio, adesso, insomma, da qualche mese si è unito ai 12 quartieri il municipio di Monte Ciccardo. Sì, loro sono stati eletti a fine novembre 2019, quindi, insomma, hanno fatto più di un anno del loro mandato in piena pandemia, ma sono stati fondamentali sotto tanti punti di vista, anche se, diciamo, non hanno potuto fare quello che dicevi tu, quindi il ruolo per cui sono nati, ma sono stati fondamentali, ricordo, la consegna dei bonus pesa, dei saturimetri, dei bonus bambini, quindi diciamo che sono stati, la consegna delle mascherine, perché abbiamo fatto tanto, perché quando non ci si poteva muovere, quindi loro sono andati a fare una consegna capillare, quindi mascherine, mascherine pediatriche, insomma, sono stati, sono 12 quartieri, 12 presidenti di quartieri, si parla di oltre 130 persone coinvolti nei consigli di quartieri, quindi, diciamo, l'orgoglio della città. Certo, e soprattutto questa parte attiva, così importante, che fa, come posso dire, da cerniera tra il cittadino spesso appunto chiuso in casa e l'amministrazione che magari arriva attraverso i canali social, attraverso tutto quanto, ma in questo caso arriva anche proprio di persona, con la conoscenza diretta, è molto bella questa cosa. Sì, esatto, lo abbiamo visto anche in questi mesi, quando erano tutti dentro casa, quando i presidenti di quartieri, i consiglieri di quartiere e i tanti volontari di quartiere, perché ricordo quando c'è stata la consegna anche delle mascherine, mascherine pediatriche, si parlava di 600 volontari, quindi dei numeri interessanti, vedevi che proprio c'era la voglia da parte del cittadino o dell'anziano di fare anche due parole, quindi al di là della consegna della mascherina, proprio veramente serve riprendersi quei momenti di socialità, quei momenti di dialogo, quei momenti di confronto e poi, ripeto, i quartieri sono sicuramente uno stimolo per l'amministrazione comunale, perché i cittadini li incontrano tutti i giorni, tutti i giorni gli chiedono le cose, gli stessi presidenti, consiglieri di quartiere ci chiedono il riscontro sulle cose, è sicuramente un ottimo stimolo, oltre che, come ripeto, una grande funzione sociale e di coesione sociale per tutto il quartiere e la città. Bene, e allora siamo in chiusura, perché il tempo come sempre corre, però prima un'ultima notazione su questo rilancio dell'apertura dei parchi, dei parchi pubblici per far fruire di nuovo lo sport, un appunto che mi ero preso alla fine delle nostre chiacchierate. Sì, ripeto che purtroppo se fra qualche giorno entreremo in zona rossa si ricadrà di nuovo come eravamo diciamo un anno fa, ma appunto l'idea era quella di dare la possibilità alle realtà sportive e comunque di poter usufruire dei parchi pubblici per fare attività, però purtroppo se saremo in zona rossa verrà di nuovo chiuso tutto e sarà consentita solamente l'attività svolta in modo individuale, quindi vicino casa, quindi la corsetta vicino casa, ritorniamo a quello che era purtroppo la situazione di un anno fa. La stampa oggi faceva un titolo anche un po' equivoco e divisivo, diceva andiamo in zona rossa per salvare le province del sud delle Marche, messa così insomma non è che dia una gran soddisfazione, diamo una sistemata a questo titolo, in realtà cosa vuol dire? Allora di fatto come dicevo prima venerdì a livello nazionale il governo quindi tirerà le somme su quelle che poi saranno le zone rosse, gialle, arancioni delle regioni, ok? Quindi ad oggi il dato della regione Marche complessivamente non è buono, cioè parliamo del complesso considerando le province di Macerata e Ancona. L'idea appunto di mettere preventivamente e cautelativamente la provincia di Pesaro Urbino in zona rossa probabilmente permetterebbe di evitare una zona rossa complessiva perché da oggi a venerdì c'è qualche giorno per limitare i contagi perché ad oggi insomma sembra che nelle ultime due settimane i contagi nella provincia di Pesaro Urbino stiano salendo notevolmente, si parla del 37%. Anche se oggi potremmo non avere i dati da zona rossa ma in via cautelativa, quindi il mio augurio è che se è in via cautelativa possa essere anche limitato diciamo questo periodo di zona rossa per le tante cose perché significa insomma che i contagi stanno diminuendo, gli ospedali non sono pieni e poi ho detto i sanitari oltre un anno che sono impegnati in prima linea quindi faccio veramente un appello al senso civico, al senso di responsabilità di tutti noi di non fare le cose solo perché ci sentiamo controllati quindi di avere quegli accorgimenti necessari perché ne va della salute di tutti quindi vediamo insomma non siamo egoisti, non pensiamo solamente a noi stessi pensiamo ripeto alle tante persone che non sono più qua con noi purtroppo ai tanti malati, alle tante persone in terapia intensiva ma in primis insomma ai medici e ai sanitari che veramente oltre un anno che sono impegnati vogliamo uscire prima possibile per far ripartire ho detto l'economia, la socialità e quello insomma che ci è stato tolto in questo anno Bene, allora rispettiamo la tradizione perché oggi è l'8 marzo e lo facciamo con il classico, la classica piccola confezione di mimose che è un omaggio di Rossini TV di cui si è occupata, lo voglio dire, allegra la nostra segretaria di redazione è efficientissima, si occupa di tutto anche di questa cosa a lei va un ringraziamento mio personale di tutta la... Grazie Allegra, grazie Rossini TV Allora grazie all'assessore Mila della Dora, adesso noi andiamo in pubblicità torneremo subito dopo con il secondo ospite della giornata con il sindaco di Cagli Alberto Alessandri anche con lui parleremo sicuramente dei temi più caldi del momento voi restate con noi, non perdetevi neanche un minuto di Casa Rossini Eccoci allora, siete ancora tutti lì? Benissimo perché adesso noi siamo con il secondo ospite della giornata con Alberto Alessandri, il sindaco di Cagli benvenuto sindaco, buongiorno Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e un augurio a tutte le donne Naturalmente, non può mancare, non può mancare anche da Cagli sicuramente noi in questo periodo stiamo vedendo diversi sindaci conoscendo e facendo conoscere diversi sindaci del territorio quando parliamo di Cagli è ben localizzato alcuni comuni magari qualcuno potrebbe avere difficoltà a sistemarli in una sorta di mappa mentale invece Cagli è uno dei punti saldi di cui sappiamo 8.200 abitanti, insomma uno dei comuni più importanti il sindaco Alessandri è al secondo mandato, giusto? Giusto Di solito il secondo serve per consolidare quello che si è seminato ma soprattutto è un segnale forte di aver fatto bene anche nel primo, no? Sì, penso, spero di sì Assolutamente sì, quantomeno c'è stata una grande vicinanza verso la popolazione verso tutti, insomma, tutti i cittadini abbiamo cercato sempre di non avere cittadini di serie A, di serie B ma di ascoltare tutti poi dopo, come dicevi te, insomma Cagli è un paese importante soprattutto è un paese vasto un paese che è il terzo paese più vasto delle marche il novantesimo in Italia quindi ha delle difficoltà chiaramente superiori insomma quella che è la media perché ha tanto territorio purtroppo anche fragile quindi dissesto idrogeologico con quindi frane, tutte queste cose qua e oltre ad avere purtroppo, dico io, anche 400 km di strade insomma che vuol dire tutti i giorni pulire la Caglia a Milano e tornare a casa, insomma che non è facile Non è uno scherzo Questa è una cosa che ho imparato facendo questa trasmissione conoscendo i sindaci e soprattutto conoscendo i sindaci dei comuni piccoli, no? che il parametro della popolazione è incompleto perché bisognerebbe sempre tenere in considerazione non solo il numero degli abitanti ma l'estensione del territorio e di tutto quello che ne consegue insomma Infatti queste sono le richieste che abbiamo sempre avanzato come territorio perché è chiaro che insomma le difficoltà che hai la media mi sembra provinciale degli abitanti a km quadrato si aggira sui 136 persone a km quadrato abbiamo delle punte come Gabice che hanno magari 1200 persone a km quadrato Cagline a 36 io sono anche il presidente dell'Unione Montana dove abbiamo dentro paesi come Apecchio come Serra Sant'Abbogno, Frontone, Cantiano, Acqualagna che ne hanno ancora di meno dei cagli insomma quindi le difficoltà chiaramente aumentano e fare sempre trasferimenti sulle persone basta senza consigliare il territorio ormai credo che sia un metodo un po' troppo superato quindi preghiamo sempre lo Stato e chi ci governa da sopra di rivedere questo modo di trasferire i fondi perché non riusciamo più a essere onesti nei confronti dei cittadini e poter rispondere a tutte le domande che ci arrivano si diventa custodi di un territorio per cui un territorio che viene frequentato viene anche percorso anche semplicemente transitato appunto sulle strade magari uno non si rende conto ma sta attraversando una strada che è di competenza di un comune la fa perché sta andando da una parte all'altra ma si dovrebbe ricordare e pensare che insomma se si passa lì c'è qualcuno che sta preoccupandosi di tenere in ordine tutto quello che c'è lì sì poi noi viviamo anche purtroppo la realtà che è un pezzo dell'ANAS un altro pezzo della provincia poi è comunale poi abbiamo interpoderali che poi sono solo questioni di etichette l'importante sarebbe aver i fondi e purtroppo i sindaci oggi sono un po' irresponsabili di tutto nel senso che la politica i partiti cambiano non ci sono più sta cambiando il modo di far politica e quindi l'unico riferimento certo su tutto ve lo garantisco è il sindaco e siamo insomma ecco perennemente perennemente sottoposti e esposti soprattutto a fare anche figure non poco belle perché non abbiamo i mezzi per abbiamo il potere probabilmente però se non è supportato da personale e anche dal dal denaro insomma è fatica le cose le sappiamo questo ve lo posso garantire che non ci sia un sindaco che non è innamorato e conosce bene il suo territorio non esiste però a volte non puoi farci nulla parliamo di questo innamoramento del territorio parliamo di questo torrione per esempio questa cosa che ho scoperto parlando insieme insomma la rocca il soccorso comerto che è questa cosa che ha questo nome così evocativo e che va sicuramente spiegato a chi non lo conosce e questo lavoro che state facendo comunque importante di recupero del torrione e di tutto quello che è lì nei paraggi insomma questo territorio che vi sta appunto a cuore e sul quale grazie a dei finanziamenti state intervenendo e potete finalmente intervenire sì è un percorso che parte da lontano quindi è proprio un percorso di Cagli un percorso che è voluto anche da vecchia amministrazione specialmente mi piace ricordare l'assessore Mazzacchera Alberto che ha dato insomma il là a questo progetto questo è il percorso sì questo è il famoso soccorso coberto parte un po' ecco dall'idea di rappresentare Cagli Cagli grazie a Dio io dico sempre c'è tante cose belle dai palazzi dalla piazza dal teatro non parliamo poi dei monti dei fiumi quindi abbiamo tanto allora cerchiamo sempre però oggi il turista vuole una cartolina precisa e quindi io dal primo giorno che sono diventato sindaco ho individuato in questo progetto quello che potrebbe essere la cartolina di Cagli anche perché ci eleva tantissimo ed è un progetto veramente di altissima qualità e praticamente noi abbiamo questo torrione nel quale poi adesso da una ventina d'anni c'è una mostra permanente di arte contemporanea dove ci sono insomma abbiamo esposte delle così dei lavori del nostro Eliseo Mattiacci di Kumelis di Nagasawa di personaggi appunto estremamente famosi e che hanno segnato appunto l'arte l'arte contemporanea da lì questo era un avamposto di una fortezza che stava più in alto circa 200 metri che c'è e quindi veniva usato come primo punto per cercare di controllare il nemico e appunto attraverso il soccorso coverto da questo avamposto si tornava su alla fortezza che è quella che in questo momento state vedendo e che fa parte di tutto questo progetto di recupero chiaramente è un bel pozzo senza fine perché scavare lì potremmo ritrovare tante altre cose siamo partiti di ribadisco anni fa con un finanziamento del ministero se non sbaglio adesso io tramite la strategia delle eri interne siamo riusciti a rimetterci dentro ancora qualche centinaia di migliaia d'euro e quindi andiamo avanti in questo bellissimo progetto se tutto andrà bene come speriamo quest'anno riusciremo ad aprire in sicurezza ecco il il soccorso coverto quindi dalla diciamo dall'avamposto dal Torione riusciremo ad uscire nella fortezza principale e da lì goderci tutto lo spettacolo oltre che della fortezza stessa che stiamo rimettendo diciamo in sesto stiamo rimettendo fruibile per il visitatore 50 metri sopra abbiamo anche il bellissimo convento dei Cappuccini anche lì un altro progetto sta partendo anzi è già partito un progetto che ci vede insieme alla sovraintendenza e all'università di Ancona ci vede protagonisti insomma anche per cercare di riuscire a è brutta però sfruttare però sì insomma metterla al servizio esatto esatto di chi verrà dello straniero del turista perché lì è un posto bellissimo dove ci si può dormire si può cucinare e quindi c'è tutto un progetto importante che insomma legato a questo all'uscita del soccorso coverto da lì io potrei andare avanti non so se vogliamo stavo facendo una riflessione che praticamente il problema è mettere dei limiti cioè decidere dove fermarsi perché se no soprattutto quando si comincia a scavare me lo diceva un altro sindaco relativamente a un'area archeologica quando scavi più scavi più trovi insomma e qui anche da voi mi sa che più si lavora e più si potrebbe fare e si potrebbe continuare per cui la necessità è quella di dare diciamo un perimetro a quello che è il lavoro che si sta facendo in modo da arrivare a un punto di considerarlo fino a quel momento lì finito e poterlo poi aprire e fluire altrimenti si rischia di continuare 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 e non arrivare mai cerchiamo di ragionare un po' come nelle aziende cioè consolidi il tuo fatturato non lo consolidi quello non lo tocchi e poi se vuoi vai avanti qui stiamo facendo la stessa cosa quindi adesso diciamo il primo progetto finale è quello di aprire appunto il soccorso quindi si può uscire mettere a posto tutto l'intorno che c'è una bellissima terrazza sfoltire un po' il bosco che c'è verso Cagli in maniera tale che tu dalla piazza illuminare quindi tutta la fortezza principale insomma tu dalla piazza di Cagli vedi questo bellissimo questo recupero e tutto illuminato insomma verrà una cosa veramente bella siamo qui puntate è comunque un turismo che viene e sta una giornata e poi torna via oppure c'è anche la possibilità di avere delle strutture ci sono strutture recettive attive sul territorio vostro noi abbiamo tante strutture recettive purtroppo con pochi posti è un tipo di chiaramente di risposta abbiamo un albergo nel centro di Cagli che si sta ristrutturando insomma che sta cercando di essere al passo con i tempi e ne abbiamo un altro che in questo momento è chiuso però insomma siamo in contatto con i proprietari per vedere insomma di trovare sia le risorse che la voglia e il desiderio di riaprirlo e quindi poter dare un servizio superiore però il nostro ecco è un tipo di turismo che si basa molto sul benessere che si basa molto sulla qualità dove appunto prima di tutto dobbiamo star bene noi cittadini che abitiamo il luogo dobbiamo ritrovare la voglia dello stare insieme della comunità di ritrovarsi attorno a un fuoco a parlare delle cose importanti essenziali da lì trasmettere questa volontà e questo star bene nei nostri territori perché è la verità perché si respira aria buona perché si può veramente coniugare il lavoro qualsiasi tipo di lavoro ormai che no abbiamo imparato anche con lo smart working che esiste un altro modo anche il mondo di lavorare possono essere zone attrattive per questa tipologia sia che di turista sia che di chi ha voglia di poi vivere in questi luoghi e poi magari andare 3-4 giorni a lavorare dove serve la presenza e quindi ecco al centro del nostro turismo c'è il benessere quindi c'è c'è la qualità e c'è il fatto che insomma abbiamo visto che il turista non vuole più avere la vacanza lui vuole un pochino vuole essere esperienziale la vacanza cioè tu vuoi torno a casa che hai fatto qualcosa hai imparato a fare la pasta hai imparato a fare dove ci sono le lumache dove i tartuffi tutto quello che abbiamo è bello e quindi cerchiamo di andare verso questa direzione una realtà consolidata invece da molti anni è quella del teatro il teatro di Cagli è un teatro famoso soprattutto per un'intuizione penso di molti anni fa io sono andato a vedere su Wikipedia dove c'è una voce apposta per il teatro di Cagli e dove c'è l'elenco impressionante degli spettacoli e degli artisti che sono stati e sono passati per il teatro di Cagli l'intuizione era quella di dare la possibilità a chi sta preparando una tour di utilizzare il teatro per fare sostanzialmente le prove per cui parliamo di musica parliamo anche di tour teatrali e di attori recitazione eccetera e questo dava in cambio la possibilità di avere la prima assoluta per cui diventare un richiamo è una cosa che è ancora portata avanti ancora attuale c'è qualche progetto nell'area qualche nome da anticipare qualche indiscrezione nonostante la pandemia guarda allora è un progetto che è assolutamente presente è reale anzi lo stiamo tenendo lì perché chiaramente adesso il periodo è quello che è ma anche qui parliamo di un'intuizione di diversi anni fa è legata sostanzialmente alla chiamata qui a Cagli del nostro direttore Sandro Pascucci uno dei personaggi più importanti nazionali nel settore Sandro venne una ventina di anni fa e poi diciamo un merito che ho è quello di averlo richiamato dopo tanti anni io quando sono diventato sindaco ho chiamato come persona di mia fiducia Sandro perché insomma noi abbiamo il teatro cerchiamo il cinema cerchiamo quello che non abbiamo valorizziamo quello che abbiamo e noi siamo arrivati prima della pandemia ad avere una quarantina di spettacoli all'anno vi posso garantire tutti poi ecco l'hai anticipato tutti di buonissimo livello e siamo arrivati ad avere una presenza spessissimo sold out tutto pieno una media di 250 300 presenze su un teatro che tiene 500 posti e quindi insomma una costante parliamo di quasi uno spettacolo a settimane come aveva il cinema e quindi a livelli veramente eccellenti il sistema che parlavi te appunto quello degli asili che poi si sono allargati un po' a tutta una strategia che abbiamo trasmesso nel territorio e che ha legato nove comuni del 7 della provincia di Pesaro di Urbino e 2 della provincia di Ancona a mettersi insieme e creare proprio un territorio diffuso una voglia dello stare insieme e di mettere insieme tutto quello che abbiamo a disposizione del turista appunto questi asili da Pennino dove il nostro direttore porta le compagnie qui a Cagli provano noi mettiamo gratuitamente a disposizione il teatro per contro le compagnie chiaramente dormono mangiano spendono qui a Cagli e abbiamo visto che l'indotto è notevole è veramente notevole quindi si crea poi no benessere diciamo economico anche nelle varie attività questa è la formula che andrà avanti purtroppo non ti posso non ti anticipo niente perché viviamo in un momento dove rimandiamo di continuo siamo rimasti che quando un anno fa poi ci hanno chiuso dove veniva Franca Matano con altri personaggi li abbiamo riconfermati tutti tutti aspettiamo di riandare avanti sempre con personaggi di prim'ordine però aspettiamo insomma gli eventi perché poi io ho guardato scorso questo elenco non me lo ricordo e non me lo sono appuntato ma mi ricordo Gaber tra i nomi enormi Lavanoni Gaber De Gregori Gino Paoli qui da noi Patti Pravo parliamo sono stati tutti andando indietro esatto è una cosa fino ai giorni d'oggi insomma la qualità è eccellente tra l'altro poi c'è questo salto culturale un po' da fare da parte di quelli che abitano leggermente diremmo lontano cioè se io stessi questo è un esempio che faccio ogni tanto quando parlo con gli amici se io stessi a Roma non mi creerei difficoltà a metterci un'ora e mezza per andare dall'altra parte della città a teatro o a vedere una cosa siccome invece siamo qua metterci adesso non so quanto ci vuole arrivare a Cagli la pesano 35 minuti 30 minuti metterci 35 40 minuti per andare a Cagli invece sembra andrò a Cagli a teatro è troppo distante cioè già è molto che devo andare al teatro Rossini parcheggiare al Carducci e camminare fino al teatro che non c'è il parcheggio davanti e questo è un salto culturale da fare assolutamente cioè da capire che tutto il nostro territorio se viene percepito come una grande metropoli soprattutto dal punto di vista culturale da tutto tutto quello che serve e anzi anche di più infatti guarda mi dispiace tantissimo al di là chiaramente tutto quello che ha portato della devastazione che ha portato della pandemia perché ci ha interrotto questo percorso culturale come dici te noi avevamo cominciato ad abituare la gente a venire a teatro in più abbiamo cominciato con qualche spettacolo anche a parlare con i giovani di teatro e questo ci ha dato fastidio perché insomma con Sandro stavamo preparando tutto un percorso forse adesso useremo più noi abbiamo un teatro all'aperto l'arena di Sant'Emilio che è un altro posto dove possono stare 2.500 3.000 persone quindi cercheremo di sfruttare questo per dare la possibilità anche ai giovani di creare i loro spettacoli perché poi il teatro spesso è accomunato a una certa fascia d'età invece grazie al lavoro di Sandro grazie al lavoro anche dei componenti dell'istituzione del teatro che è l'organo che assieme a Sandro organizza attività non a caso abbiamo messo dentro dei ragazzi giovani insomma avevano cominciato a parlare anche di coinvolgimento di quelle fasce d'età più giovani e questo mi dispiace perché un pochino sai è una questione d'abitudine noi ci stavamo abituando ad andare al teatro io vedevo facce nuove è bello questo è di grande soddisfazione purtroppo questo un anno adesso ci farà pagare un bello scotto però speriamo utilizzando magari anche l'arena di coinvolgere velocemente riprendere il cammino bene soprattutto con i giovani abbiamo veramente un minuto forse un minuto e mezzo per fare un accenno come va da voi con la pandemia come sta andando al di là dei blocchi e tutto il resto numericamente Cagli per adesso va bene nel senso fino a 6-7 io ho fatto un comunicato l'altra sera fino a 7-8 giorni fa addirittura eravamo 4-5 positivi che da noi è niente adesso siamo saliti a ieri sera ho visto siamo a 21 21 positivi che facevo i conti c'è 8.300 abitanti e 1 ogni 400 quindi 0,25 che è veramente minimo e questo dispiace perché ecco riparlare di chiusura totale chiaramente lo percepisci male da noi in questo in questo momento però ecco tanto purtroppo non puoi far si poi divide province ma ne puoi far paesino per paesino diventa un po' complicata la cosa quindi dovremmo un po' ecco sottostare a quelle che saranno le regole e insomma le decisioni che si prenderanno collettive in maniera collettiva però da noi va abbastanza bene come risultati ecco in questo momento non c'è poca roba però il fatto che in 10 giorni da 4 siamo andati a 21 pur rimanendo sempre un numero limitatissimo però c'è una tendenza a riaumentare quindi bisogna fatta la fotografia del momento alcuni dati preoccupano di più alcuni di meno però è la tendenza che è quella che spaventa abbastanza perché si teme che appunto si possa io devo essere sincero insomma sono rimasto un po' male perché ho visto che eravamo 20 poi di 15 ci siamo scesi fino a 4 5 3 dico dai ce l'abbiamo fatto ormai andiamo verso la stagione e invece adesso è una settimana che ha ripreso un po' il via vedremo un po' di no io dico sempre bisogna assolutamente vivere e ricominciare a vivere cercare di far veramente di aiutare chi ha l'attività perché altrimenti insomma diventa tutto un po' di sostenibilità ogni giorno che passa pesa molto di più sul computo generale però insomma le regole sono poche a volte ma come tutte le cose tanto c'è sempre chi non se uno non le rispetti nella vita normale non le rispetti neanche col covid quella percentuale di gente che non le rispetta purtroppo è fisiologica va combattuta e va dopo ritorniamo ai discorsi dei controlli che purtroppo paghiamo bene allora abbiamo completato la nostra chiacchierata con Alberto Alessandro il sindaco di Cagli prima di salutarlo e di andare con il video musicale diamo i risultati del sondaggio che vedono Android prevalere ha fatto un sondaggio un po' scemo tra Android e iPhone prevalere con il 71% contro l'iPhone al 29% ringraziamo Anna Aida Giancarlo Leonardo Dalila Patrizia che ci stanno seguendo ringraziamo anche Tiziano Donzelli che ci ha dato tutte le ceramiche e anche il quadro con cui abbiamo allestito il nostro studio ricordiamo ai musicisti che se vogliono segnalarci il loro video musicale lo possono fare perché poi lo mandiamo in onda in questa pausa ed è appunto il momento di mandare in onda il video di oggi che è di un musicista pesarese comunque che si è affermato in ambito nazionale lui si chiama di nome vero Matteo Orizzi e io lo so perché tra l'altro lui ha cominciato anche attraverso i concerti che organizzavamo noi tanti anni fa ma adesso il suo nome d'arte è Matthew Lee lo vediamo e lo ascoltiamo con questa rock and roll love con un video con la partecipazione addirittura di Paolo Belli restate con noi perché subito dopo andremo con il terzo ospite della giornata Alessandro Giuliani titolare Vigilar eccoci era Matteo Matteo Rizzi in arte Matthew Lee e noi invece adesso siamo con il terzo ospite della giornata buongiorno e benvenuto ad Alessandro Giuliani titolare Vigilar buongiorno Alessandro buongiorno a tutti buongiorno allora nome di origine greca significa cacciatore di uomini curiosa questa cosa no? ho visto anche comunque il mestiere da una parte la vigilanza dall'altra vedremo poi le investigazioni questa idea di andare un po' in caccia c'è nel nome assolutamente allora titolare di Vigilar Vigilar è un marchio molto conosciuto tra l'altro amico di Rossini TV come dico e come dico spesso quando c'è qualcuno che insomma i nostri telespettatori comunque conoscono vigilanza noi siamo abituati ormai rimasti in testa con quest'idea di quello che gira in bicicletta mette i bigliettini per dire sono passato è passato molto tempo da quegli anni c'è qualcosa di molto diverso e la tecnologia adesso ha stravolto in meglio tutto quanto certo si è partiti dal bigliettino all'inizio del novecento c'era il vigilante che andava in bicicletta faceva le sue ispezioni mettendo il bigliettino ovviamente oggi chi la fa da padrone è la tecnologia che usiamo in maniera massiccia nel senso che ogni nostro cliente ha un impianto antifurto installato nella propria abitazione collegato con la nostra centrale operativa la differenza è questa che la tecnologia ci permette di sapere sempre esattamente quello che sta avvenendo nelle proprie abitazioni poi c'è tutto il servizio di centrale operativa che riceve i segnali d'allarme effettua la telefonata di controllo e invia la pattuglia la guardia asurata sul posto per fare le verifiche e controllare che tutto sia ok ma il pattugliamento quello di giro questa cosa è una curiosità mia serve ancora è ancora attuale ma abbiamo qualche cliente che è affezionato forse anche la sua ragione perché prima di tutto vuole che le sue porte d'ingresso le finestre siano chiuse per cui alcuni clienti sono abituati ad avere l'ispezione il controllo dell'apertura e delle chiusure ovviamente glielo facciamo però ecco il cuore della vigilanza è sulla tecnologia telecamere impianti antifurto esattamente il servizio come si svolge cioè voi cosa voi avete questa struttura questa centrale operativa 24 ore su 24 avete tutto questo controllo diretto tecnologia e tutto poi succede una cosa a quel punto cosa fate? beh allora intanto la centrale operativa riceve una segnalazione d'allarme quindi che c'è stata un'intrusione nell'abitazione o nell'attività commerciale dei nostri clienti effettiamo una chiamata di controllo per verificare che sia un allarme vero o piuttosto il nostro cliente ha mandato in allarme perché non è riuscito a disinstallare l'allarme in tempo a quel punto se non riceviamo risposta la centrale operativa invia subito la pattuglia a fare l'intervento e fare l'ispezione il quale arriva veramente nel giro di pochi minuti sul posto e verifica che sia tutto a posto voi li muovete in autonomia o avete un collegamento comunque con le forze dell'ordine ma guarda noi siamo in autonomia forniamo il servizio completo e ovviamente poi nel momento in cui facciamo l'intervento e siamo sul posto vediamo che c'è un furto in atto piuttosto che è stato perpetrato un furto ovviamente chiamiamo le forze dell'ordine che intervengono per fare i rilievi del caso molto spesso ecco abbiamo fatto il nostro lavoro abbiamo spaventato i ladri e sono scappati oltre naturalmente a consigliare inevitabilmente ai nostri telespettatori di affidarsi a una struttura come la vostra meglio se la vostra addirittura ci sono dei consigli di uso comune corrente di buon senso che un esperto come te può dare comunque ai nostri telespettatori anche magari qualche comportamento imprudente da evitare non lo so perché ho la sensazione che da una parte ci sia comunque molto molto timore giustificato o alle volte anche forse surdimensionato dall'altro invece c'è una sottovalutazione non so ci muoviamo tra questi due estremi sì i consigli sono sempre quelli non mettere la chiave sotto lo studino dell'ingresso quasi tutti oppure pubblicare continuamente sui social dove si è materialmente perché pubblicare che si è dall'altra parte del mondo lascia spazio ad eventuali malintenzionati di andare a casa ed effettuare il furto quindi questi sono semplici consigli che aiutano ad evitare certi danni una volta si usava accendere la luce dice lascia la luce accesa ancora ancora molti ancora molti lo fanno può funzionare come idea secondo me sì sì perché comunque poi magari però su facebook non mettere contemporaneamente che sei alle Maldive perché se no hai sprecato solo la bolletta insomma hai sprecato solo un po' di luce altre cose che vedo fare quella la vedo spesso anche io e ogni volta mi domando dico ma sarà prudente quando si va a mettere magari la macchina in garage si scende per aprire la serranda e si lascia macchina accesa in moto no? quello è un aspetto molto delicato adesso per fortuna nei nostri territori è abbastanza tranquillo quindi non avvengono questi furti così mentre si lascia la macchina in moto però è sempre bene evitarlo durante il periodo di lockdown distinto mi verrebbe da dire sono stati a caso anche i ladri sì anche se abbiamo comunque aumentato la vigilanza proprio perché le attività commerciali e industriali erano chiuse abbiamo aumentato ovviamente la nostra vigilanza anche di giorno perché il nostro istituto si contraddistingue dalla concorrenza proprio perché fornisce il servizio sia di giorno che di notte per cui soprattutto di giorno è importante mantenere la vigilanza anche le attività commerciali quando ovviamente erano chiuse per lockdown a quel punto lì giorno e notte non faccia differenza chiuse erano e non presidiare però nelle statistiche sono diminuite ovviamente i furti certo anche perché sono aumentati poi i controlli delle forze dell'ordine dei militari soprattutto nella prima fase un anno fa esatto chi è incuriosito da questa nostra chiacchierata ne vuol sapere di più può andare anche sul web e cercare vigilar.it scoprirà un pulsante nuovo che è Green Division è una cosa particolare che avete abbinato tendenzialmente così distinto verrebbe da dire quasi che non c'entra ma poi in realtà voi avete trovato un modo per collegarla ma sì esattamente un anno fa poco meno di un anno fa vista la pandemia abbiamo attivato questa divisione che si occupa di sanificazione quindi facciamo sanificazione degli ambienti con dei prodotti presidi medici riconosciuti dal Ministero per cui abbiamo le nostre attrezzature che sanificano gli ambienti e andiamo a sanificare le attività commerciali le aziende e anche le abitazioni dove c'è un positivo andiamo sanifichiamo le varie stanze con le nostre attrezzature viene certificata questa sanificazione e viene ovviamente certificata abbiamo il codice ATECO abbiamo tutte le autorizzazioni e in un mese siamo riusciti a mettere in piedi questa divisione e anche purtroppo anche adesso stiamo continuando a fare molte sanificazioni tutti i giorni sono i nostri tecnici che vanno presso i nostri clienti a sanificare qualcuno lo fa in maniera periodica qualcuna straordinaria quando capita di avere un positivo in azienda piuttosto che nella propria abitazione il menu a discesa che viene fuori quando si clicca appunto su Green Division ha la voce B che è straordinaria anti-zanzara e anti-zanzara vi vogliamo tutti a questo punto allora guarda Paolo abbiamo fatto questa B che è l'anti-zanzara perché le attrezzature che utilizziamo per la sanificazione sono le stesse che utilizziamo per l'anti-zanzara quindi siccome è un problema che si pone a tutti in certi periodi dell'anno adesso tra un po' inizia la stagione fino a settembre abbiamo messo insieme anche questo tipo di offerta dove facciamo anche l'anti-zanzara che poi sarà che stiamo più a casa ma con la pandemia le zanzare sembrano più cattive più longeve ma poi io ho continuato a vederle dentro casa fino a novembre dico ma questa si sentirà sola poi una volta ho fatto anche un posto ho detto ma questa qua che è da solo si capirà che è una così una sopravvissuta ma gestione del verde è un'altra voce canne fumarie è un altro aspetto importante per il quale sicuramente vi chiamerò perché ho intenzione di rimettere in funzione un cammino come vedete insomma non si tratta solo di vigilanza ma si tratta anche di altro e non solo relativamente a questo ma anche all'altra sezione che è sempre collegata e collegabile a voi anche se si è diciamo meritata un sito a parte e credo anche una società a parte che è la control service con la K come mi hai detto al telefono è la nostra divisione investigativa abbiamo delle cinque persone che si occupano di investigazioni e lavoriamo sia in ambito privato che aziendale molto più nell'aziendale anche se con lo smart working e la diminuzione dell'attività lavorativa stiamo un po' cedendo il colpo io qui ho l'aneddoto perché praticamente so di cosa si tratta perché la mia prima attività seria che ho fatto subito dopo la laurea quando ancora credevo di provare a fare un percorso di lavoro appunto in qualche modo tracciato è stata quella di gestire un'agenzia di informazioni commerciali e investigazioni che mi veniva in doppia eredità da mio nonno e poi da mio zio che l'aveva gestita fresco di laurea pensavo di essere comunque pronto e poi in realtà mi sono reso conto che non era il mio lavoro l'avevo concentrato soprattutto sulle informazioni commerciali perché mi prendeva l'ansia all'idea di fare le investigazioni perché un conte è vederli in televisione e vedere i telefilm e un conte poi in realtà mettersi lì a fare andare a vedere a scoprire cose che non vanno bene doverne poi riferire a chi ti ha commissionato il lavoro insomma è un lavoro molto delicato non è solo un discorso di fare un po' appunto lo spione sì sì no è molto delicato faccio questa attività da ormai dal 96 ed è stata la nostra prima attività la vigilanza poi è nata nel 2000 e sì è un lavoro abbastanza delicato che però ha un suo ruolo ed è importante per documentare certe situazioni che altrimenti non si riuscirebbero a documentare per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria sto parlando della classica infedeltà coniugale per un'eventuale separazione o piuttosto che un controllo sul corretto uso dei permessi della legge 104 per un'azienda che vuol documentare che un proprio dipendente utilizza in maniera scorretta questi permessi che sono concessi dalla legge ci vedo anche tutta una parte psicologica forte perché credo che soprattutto il privato quando viene da voi in qualche modo a esporre quello che è un suo sospetto un suo caso non sia semplicemente un cliente che viene e commissiona un lavoro sia una persona che va in qualche modo anche accudita dal punto di vista psicologico sia prima durante e anche soprattutto dopo assolutamente è una fase molto delicata e diventiamo i suoi consiglieri dove ovviamente molto spesso siamo le persone le uniche persone a cui si può rivolgere per questo tipo di problematiche e per fortuna riusciamo a dare un bel supporto e soprattutto a consigliarlo al meglio per le varie fasi che deve intraprendere dal 96 oggi anche qui la tecnologia ha aiutato a modificare un po' il lavoro assolutamente sì noi siamo sempre all'avanguardia sulla tecnologia e ormai circa vent'anni fa siamo stati tra i primi a utilizzare i localizzatori satellitari che una volta non erano neanche legali adesso per fortuna si possono utilizzare e ci aiutano moltissimo su ogni indagine per cui nella fase di indagine possiamo installare i nostri GPS che ci permettono di sapere sempre esattamente dove si trova un autoveicolo della persona che è sottoposta a indagine allora andiamo a dire una cosa importante siete main sponsor della Virtus Volley di Fano e io dico sempre che questo è un programma nel quale chi ha voglia di raccontare qualcosa dà delle anticipazioni e delle anteprime anche che su questo c'è un'anteprima ma sì quest'anno è stata una scommessa ci abbiamo creduto e col presidente Iannelli abbiamo iniziato questa avventura a fare da main sponsor alla Virtus Volley Fano che ha preso il nome di Vigilar Fano siamo stati molto soddisfatti di aver preso questa scelta e anche se ovviamente il momento non è dei migliori perché le partite non si possono fare in presenza quest'anno tranne un numero ristretto di persone speriamo dalla prossima stagione dal prossimo ottobre di avere più tifo possibile al palazzetto di Fano soprattutto per le partite in casa e l'anticipazione è che anche per il prossimo anno continueremo ad essere main sponsor della Virtus Volley Fano era questo o è qualcos'altro a cui vi riferite col post sulla pagina facebook del 28 febbraio rimanete sintonizzati questa cosa sta per accadere ce ne siamo inventati un'altra ancora no ancora deve accadere lo vedremo nelle prossime puntate bene allora a questo punto in chiusura noi diamo tutte le indicazioni ricordiamo ancora una volta vigilar.it vigilante green service per quanto riguarda appunto il sito della sezione di cui abbiamo parlato e control service con la k punto it per investigazioni private e commerciali naturalmente anche le pagine social è un po' curioso questo fatto di essere da una parte comunque fare un lavoro che richiede riservatezza e poi dall'altra inevitabilmente essere presenti sui social e diciamo un po' è una via obbligata è la via obbligata del momento purtroppo i social devi esserci per poter comunicare e far capire quali sono i servizi che offri perché purtroppo oggi le persone non sono informate non sono informate su cosa può offrire una vigilanza su quello che può costare un impianto antifurto un servizio di vigilanza collegato con una centrale operativa per cui i social servono per informare i clienti che ovviamente hanno il diritto di potersi informare bene e allora voi approfittate di questo strumento di questi strumenti per informarvi con molta precisione e devo dire con molta accuratezza su tutto quello che Vigilar e Control Service propongono ai clienti e in generale a tutti quelli che possono essere anche semplicemente incuriositi dall'argomento e magari vogliono approfondire e così e farsi un'idea di quello che può essere vivere un po' più sicuri un po' più sanificati un po' più tranquilli per quanto riguarda tutto quello che ha a che fare con i rapporti interpersonali mi sono dimenticato niente no? hai detto tutto perfetto bene allora ringraziamo Alessandro Giuliani per essere stato con noi averci dato questa così spiegazione così lineare di quelle che sono le sue attività ci auguriamo di essere stati utili anche ai telespettatori per saperne un po' di più grazie a voi grazie e con questo si sta concludendo ovvero ho finito io guardo sempre qualcuno dirà dove guardi io guardo Allegra che mi fa il segnale mi dice tutto a posto hai detto tutto anche oggi sei arrivato in fondo siamo arrivati alla conclusione e nel ringraziare ancora una volta Alessandro Giuliani titolare Vigilar e Control Service per essere stato con noi ricordiamo che prima di lui Alberto Alessandri sindaco di Cagli e Mila della Dora assessore alla coesione e al benessere si sono seduti sul divano di Casa Rossini seguite le repliche di questa puntata e per quanto riguarda invece la diretta ci vediamo mercoledì prossimo ancora una volta con tre ospiti grazie a tutti buona festa della donna buona giornata e restate sempre con le trasmissioni di Rossini TV Alessandro grazie ancora grazie a tutti